Seconda uscita a Sonoro nel giro di nemmeno 20 giorni per il vice ministro nonché ministro dell'interno Matteo Salvini. Ieri sera leader della Lega, questa volta dal palco allestito nella centrale Piazza Garibaldi e non più in zona Garberia, dove aveva scelto di apparire per la sua prima uscita ufficiale in qualità di ministro dell'interno. Notizia che TeleSondro News aveva pubblicato ancora prima delle testate nazionali. Affrontato i temi caldi che in questi giorni infiammano il dibattito politico. Fra gli altri, non potevano mancare la questione ai migranti. La decisione voluta da Salvini di chiudere i porti italiani alle navi delle organizzazioni non governative Sea-Watch 3 e Aquarius, quest'ultima traccata ieri mattina a Valencia dopo un'udizia di ben nove giorni, aveva suscitato non poche ponemiche a livello nazionale ed internazionale. L'ultima frecciata è arrivata dall'ex segretario del Partito Democratico ed ex premier Matteo Renzi. Salvini dice ha fatto il bullo con 629 migranti, ha fatto uno spot ma da domani rimane tutto uguale. E poi ancora, non si può fare politica sulla pelle dei deboli, conclude, un milione di like non vale una vita. E il ministro dell'interno replica. Gli italiani hanno già risposto a Renzi mandandolo a casa lo scorso marzo. Non commento gli insulti altrui, men che meno quelli di Renzi, perché il commento l'hanno dato milioni di italiani mandandolo a casa e chiedendo alla Lega dei 5 Stelle di governare meglio di lui questo paese. Quindi gli lascio i suoi insulti e il suo nervosismo e mi tengo la nostra concretezza. Penso che noi in 15 giorni abbiamo cominciato a fare seriamente più cose rispetto a quelle che altri non hanno fatto in 5, 6 o in 7 anni. Difendere i confini era nel programma elettorale e noi, a differenza di altri politici, manteniamo quello che avevamo promesso.